Grande successo per la stagione di Live PMA, il format condotto da Erika Bortolato, Mamma PMA. Il programma di Telecittà, che racconta la procreazione medicalmente assistita, è nato da un'idea condivisa tra Patrizia Vassallo, editore di Telecittà, ed Erika Bortolato, per informare attraverso la voce dei medici e raccontare storie vere attraverso la voce e i volti di chi la PMA l'ha vissuta e la vive. Storie di successi e a volte anche di insuccessi, percorsi di vita che grazie a questa trasmissione trovano la condivisione tra persone che la PMA la vivono. Live PMA è diventato molto di più di un programma televisivo, è nata una vera e propria community di utenti che seguono e che grazie all'innovazione alla rete possono interagire attraverso le piattaforme social e ad un canale Telegram, che permette di condividere informazioni ma anche emozioni. Già, perché in questi momenti delicati anche incontrare persone che vivono le stesse storie può essere un'importante fonte di supporto. In ogni puntata Erika Bortolato ospita specialisti del settore, dal pubblico al privato, portando le competenze dei medici presenti che informano, entrano nel dettaglio parlando di prevenzione dell'infertilità, patologie, percorsi di procreazione medicalmente assistita e grande spazio viene riservato alle telespettatrici che pongono domande ai medici.